Ciao, io sono Luca di Approccialla.it e in questo video ti darò un consiglio per quando esci da solo a conoscere ragazze. Prima di iniziare ricordo per chiunque mi seguisse a poco, sono il punto di riferimento in Italia dal 2018 per chiunque vorreste imparare realmente, tramite dei corsi, come conoscere ragazze di giorno e portare avanti la conoscenza fino in fondo, fino alla camera diretto e anche oltre, anziché soltanto fino al numero di telefono o poco più, come insegnano tutti quanti gli altri in Italia. Detto ciò, ti lascio al resto del video. Allora, Catalina chiede, quando si approccia di sera per strada le tipe... Cade il microfono, sta per cadere il microfono. Allora, quando si approccia di sera per strada le tipe mi sono accordo che serve un alibi, cioè per loro se tu sei in giro di sera da solo ad approcciare è da lupo solitario affamato, quindi ti danno una reazione negativa. Come si può fare? C'è nel corso? No, non c'è nel corso perché non è una problematica da mettere in un corso. Semplicemente devi essere ok con te stesso con questa cosa qua. Quindi puoi magari crearti semplicemente delle giustificazioni, che poi non è che devi giustificarti perché non va bene giustificarsi se una ragazza ti chiede queste cose qua. E semplicemente le dici... Spesso, io lo dico alle ragazze, però magari mi capita l'auti di approcciare le ragazze di sera, in piazza Duomo, magari in orario di cena, e poi dopo ci rivediamo anche dopo, magari per l'appuntento, dopo cena, che l'approccio magari tipo poco prima di cena o magari anche in orario di cena, e poi ci rivediamo magari qualche ora dopo o magari anche qualche giorno dopo. Semplicemente le dico, avevo un po' di tempo libero e sono uscito a fare un giro. Oppure spesso magari mi capita di dire che stavo lavorando troppo in questi giorni qua e volevo uscire un po' a svagarmi a fare un giro. Quindi non è tanto il che cosa le dici, è il fatto che tu sei ok con te stesso con questa cosa qua e non ti senti uno sfigato perché sei in giro da solo. Perché altrimenti se ti senti lo sfigato che hai in giro da solo, allora lì sì che devi crearti la giustificazione, però se tu glielo dici in maniera da essere ok con te stesso, che tu ti senti veramente ok con il fatto che sei in giro, non c'è niente di male o di sbagliato, non ti senti attaccato a questa cosa qua, semplicemente ti scivola addosso, le rispondi, ma sì niente sono riuscito a farmi un giro, avevo qualche ora libera, avevo la serata libera, i miei amici non avevano voglia di uscire, io avevo voglia di uscire, sono riuscito giusto a farmi un giro e basta. Però il punto non è tanto cosa dice a livello verbale, e il fatto che tu ti senti ok con il fatto che uscire da solo non è un problema.